Buon salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video in cui parleremo dei motori a pistoni aeronautici. In passato avevo realizzato su questo canale un video in cui genericamente parlavo dei motori aeronautici, poi alla fine soffermandomi in realtà sul motore a getto. Ecco, ho intenzione di rivedere quel video e parlare dei vari tipi di motori aeronautici che esistono. Allora, iniziamo oggi con il motore a pistoni, poi parleremo del motore turboelica e poi del motore turbofan o turbojet. Ovviamente poi ci saranno anche dei video di mezzo in cui parlerò degli organi di trasmissione dell'energia, quindi delle eliche nel caso dei motori ad elica, quindi i motori a pistoni e del motore turboprop. Quindi adesso iniziamo col motore, poi parleremo dell'elica. Il motore a pistoni è il motore più semplice utilizzato a livello aeronautico, perché è un motore che tutto sommato è facile da costruire, è facile da comprendere, dato che la quotidianità ci porta a osservare motori a pistoni come quelli all'interno delle autovetture. Le differenze che esistono fra i motori stradali, ad esempio quelli aeronautici, sono però sostanziali, quindi determinano una costruzione del motore e un uso del motore differente tra le due tipologie. Allora, anzitutto la quasi totalità dei motori a pistoni per uso aeronautico utilizza la benzina, quindi non il diesel, e ha un ciclo termico a quattro tempi. Ora vedremo cosa sono questi quattro tempi. Sappiate che praticamente è la stessa cosa che avviene nei motori automobilistici. Un'altra differenza che esiste fra i motori aeronautici e quelli stradali è la disposizione dei cilindri. Quindi il motore non ha uno sviluppo verticale, come nel caso delle autovetture, ma si dice in configurazione boxer, ovvero a cilindri contrapposti. Questo significa che, come state vedendo nello schema, invece di avere i cilindri affiancati, i cilindri sono posti uno contro l'altro e sfasati, in modo tale da comporre un motore di piccole dimensioni, perché a noi interessa che il motore non opponga una grossa sezione all'aria, sennò aumenta la resistenza dell'aeromobile, e che sia compatto e leggero. Adesso analizziamo le varie parti che compongono un motore a pistoni e poi le vediamo funzionare nell'insieme. Allora, tutti i motori a pistoni hanno il pistone, che è l'organo in movimento. Questo pistone sostanzialmente si muove all'interno di un cilindro, che dovete immaginare appunto come un cilindro cavo, al cui interno il pistone può scorrere in maniera alternativa, quindi passare da un punto morto superiore a un punto morto inferiore. Questo movimento viene trasmesso all'albero motore, che è l'organo che poi va a ruotare, quindi ad avere la velocità di rotazione, che poi nelle auto si trasforma attraverso il cambio nella rotazione delle ruote, e negli aeromobili invece nella rotazione dell'elica. Quindi, come si passa dal pistone, che ha un movimento alternativo, all'albero motore, che ha un movimento rotativo? Questo viene fatto con una macchina semplicissima che si chiama Biella e Manovella, quindi trasformano questo moto particolare alternativo in un motor rotativo molto più semplice da utilizzare. Queste sono sostanzialmente le parti più importanti del motore, ma il motore non può funzionare senza altre parti, quali le valvole che servono per far entrare l'aria e il carburante e ci sono valvole per l'aspirazione cosiddetta e valvole per lo scarico, ovvero da cui poi i gas combusti ormai escono, fuoriescono e poi li vedete uscire dal tubo di scappamento. E inoltre abbiamo le candele, senza le candele il carburante non può spontaneamente prendere fuoco perché stiamo parlando di benzina, quindi non c'è un rapporto di compressione tale che faccia accendere spontaneamente la benzina, quindi noi abbiamo bisogno di una scintilla che faccia scoppiare letteralmente la miscela di aria e benzina e questo crei ovviamente il movimento poi del pistone, come vedremo. Quindi queste sono le parti del motore. Andiamo a capire come queste parti, dove si trovano, come collaborano fra di loro e qui spieghiamo anche perché il motore si chiama a quattro tempi. Quali sono questi quattro tempi? Allora durante il funzionamento del ciclo, significa dall'inizio del ciclo termico alla fine del ciclo termico, ci sono quattro momenti distinti che fanno quattro cose differenti. Partiamo dalla condizione per cui il pistone si trovi nel punto più alto del cilindro. Quando il pistone si trova nel punto più alto del cilindro, trascinato dall'albero motore e quindi ci sarà un altro pistone che sta facendo il lavoro al posto di questo, quindi trascinato verso il basso dall'albero motore, inizia ad aspirare aria attraverso le valvole che si aprono, quindi si aprono delle valvole sulla testa del cilindro, dalle quali l'aria inizia a fluire all'interno del cilindro. Ovviamente insieme all'aria vi è anche il carburante, quindi questa si chiama fase di aspirazione perché appunto il pistone scendendo risucchia aria e carburante dagli iniettori o dal carburatore come vedremo, quindi carica il cilindro della miscela che poi andrà a generare lo scoppio. Subito dopo essere arrivato al punto morto inferiore, quindi al massimo della corsa del pistone nel punto più basso, inizia una seconda fase, un secondo tempo che si chiama compressione. Il pistone inizia a salire e a comprimere il gas. La compressione determina ovviamente un aumento di energia di questo gas perché appunto inizia a riscaldarsi già di per sé. Non solo, la compressione avviene perché le valvole di aspirazione ora sono chiuse, quindi il gas non può più fuoriuscire dalle valvole di aspirazione e quindi questo gas si sta comprimendo. Ora passiamo al terzo tempo. Nel momento in cui il pistone sta arrivando c'è un leggero anticipo di accensione della candela, quindi la candela non si accende al momento di massima compressione perché ovviamente nel momento in cui si accende la candela bisogna dare il tempo al gas di prendere fuoco, quindi alla miscela di prendere fuoco completamente e quindi non posso darglielo nel momento in cui è al massimo la compressione perché ci mette un certo tempo. Quindi questo è un piccolo anticipo che si dà sull'accensione. Infatti questa fase viene detta fase di scoppio oppure fase di espansione perché in questo momento cosa succede? Le valvole sono chiuse, il pistone sta salendo lievemente ma comunque quasi alla sommità del cilindro, la candela dà la scintilla e quindi il gas scoppia, ovvero la miscela di carburante scoppia e l'aumento di temperatura determina un aumento di pressione e quindi il pistone viene forzato a scendere verso il basso. Questa è l'unica, è l'unico tempo dei quattro in cui praticamente vi è un vero lavoro, quindi è l'unico tempo attivo perché in questa fase l'energia termica determina l'esistenza dell'energia meccanica. Mi spiego, le altre tre fasi sono trascinate da altri cilindri che stanno facendo questa cosa qui, ma l'unica fase in cui vi è veramente la trasformazione dell'energia chimica del carburante in energia meccanica è proprio la fase di scoppio, infatti è in questa fase che si verifica l'aumento di temperatura del gas e quindi il pistone viene spinto forzatamente verso il basso e quindi questa fase ovviamente si chiama scoppio e espansione. In questo caso le valvole sono chiuse, il pistone è forzato ad andare in giù e finisce il terzo tempo. Il quarto tempo è il tempo di scarico in cui il pistone nuovamente trascinato dagli altri viene portato verso l'alto, in questo caso però le valvole aperte sono quelle di scarico, quindi ci sono altre valvole che si aprono, non quelle di aspirazione altre, e il pistone salendo spinge i gas di scarico, ormai questo è, insomma troviamo qui i residui della combustione. Questi gas residui vengono buttati all'esterno nel condotto di scarico, terminata l'ascesa del pistone, quindi nuovamente punto morto superiore, le valvole di scarico vengono chiuse e quindi il tempo ricomincia dal primo tempo perché adesso il pistone sarà su, quindi si apriranno le valvole di aspirazione, il pistone scenderà, avremo l'aspirazione eccetera eccetera. Quindi questa è la ragione per cui il motore si chiama a quattro tempi. Ora avete capito che questo motore non può funzionare in maniera monocilindrica, è molto difficile che c'è la faccia in maniera monocilindrica perché le tre fasi inattive richiedono che ci sia qualcun altro che faccia girare il motore in quel momento, quindi quello che succede è che normalmente in un motore a quattro tempi non vi è un solo cilindro ma ce ne devono essere almeno quattro anche se in realtà poi attraverso degli escamotage si riesce ad avere motori a quattro tempi a tre cilindri. Ora i cilindri sono connessi fra di loro, quindi i pistoni in realtà sono connessi fra di loro dall'albero motore per cui vi è sempre in ogni tempo, se noi guardiamo collettivamente il motore c'è sempre un cilindro che sta facendo una fase attiva perché se no il motore si fermerebbe. Bene, queste fasi sono comandate dalla rotazione dell'albero motore che apre e chiude attraverso la distribuzione le valvole che quindi comandano l'aspirazione e lo scarico dei gas e oltre alla distribuzione abbiamo anche l'accensione quindi la candela. Avete capito che il motore è un sistema complesso nel senso non vi è soltanto il pistone che fa su e giù ma ci sono degli organi quali le valvole che mediano appunto il movimento dei flussi vari di gas quindi di aria e carburante e di scarico e poi abbiamo anche il sistema delle candele. Questo è un sistema preciso, ora io l'ho descritto semplicemente ma ci sono degli anticipi ad esempio dei cicli di lavaggio che non ho trattato per semplicità di trattazione però sostanzialmente il motore funziona in questo modo. Ora qualcuno di voi avrà sentito parlare anche in gergo automobilistico di cilindrata che cos'è la cilindrata? Se noi prendiamo il cilindro però non nella sua interezza prendiamo sostanzialmente la parte del cilindro in cui il pistone può correre quindi la corsa del pistone tra il punto morto superiore e il punto morto inferiore vediamo quel volume quant'è lo moltiplichiamo per il numero di cilindri ecco quella è la cilindrata. Perché si dice che maggiore la cilindrata maggiore la potenza cosa non sempre vera in realtà? Perché ovviamente se noi abbiamo una cilindrata maggiore vuol dire che avremo un volume di gas elaborabile dal pistone molto maggiore quindi cosa significa? Che potrà assumere e incorporare all'interno del cilindro maggiore benzina sostanzialmente perché poi quella che determina l'energia del motore e quindi il motore avrà più energia a disposizione sarà più potente. Ora attenzione motori mal progettati o motori che hanno cicli non ben tarati possono avere cilindrate enormi ma sviluppare potenze ridicole perché appunto se un motore invece è molto ben progettato ha un'efficienza maggiore vuol dire che riesce a trasformare molta più energia termica in energia meccanica e quindi ad aumentare il cosiddetto rendimento. Quindi attenzione non mettete direttamente in connessione maggiore cilindrata maggiore potenza perché magari il motore è progettato male e quindi è una cilindrata spropositata che poi non eroga praticamente alcuna potenza. Ecco perché si parla di cavalli, cavalli vapore che è un'unità di misura della potenza oppure di kilowatt perché quello è il vero dato che ci dice quanta potenza il motore può erogare e quindi non è generalmente la cilindrata a dire la potenza del motore ma è proprio la potenza quindi kilowatt o cavalli. La cosa interessante da dire è che contrariamente agli autoveicoli in cui i motori hanno una sola candela per cilindro nei motori aeronautici al fine di aumentare la sicurezza del motore stesso sono inseriti due circuiti di accensione distinti. Distinti significa che hanno due magneti ovvero due generatori di corrente che poi fanno scoccare la scintilla nella candela, due candele a cilindro in modo tale che se un circuito dovesse fallire una candela, dovesse rompersi eccetera vi è sempre l'altra e quindi possiamo sempre garantire il funzionamento di questo motore. Negli autoveicoli non ha senso complicare così tanto le cose perché tanto il motore si spegnerà e noi ci fermeremo ma se il motore si spegne in aria invece i problemi iniziano ad essere un po' più seri. Soprattutto se il motore inizia a girare a tre cilindri quindi una delle quattro candele dei cilindri si ferma il motore perde un ciclo ogni giro quindi inizia a prendere vibrazioni e la cosa in aria vi posso garantire essere un problemone gigantesco. Nei motori aeronautici oltre ai magneti che generano appunto la corrente che poi alimenta le candele abbiamo detto essercene due ed essere indipendenti abbiamo l'olio. L'olio è un elemento fondamentale per il funzionamento di qualsiasi motore a pistoni ovviamente anche quello delle auto ha bisogno dell'olio. Perché l'olio? L'olio si frappone fra il cilindro e il pistone e genera una sottile patina, un sottile velo di olio lubrificante. Questo significa che fra il ferro parliamo diciamo così, fra il ferro del pistone e il ferro del cilindro non vi è un attrito diretto ma c'è l'olio di mezzo e quindi non si raschia il cilindro e non si raschia il pistone. Il pistone poi ha delle fasce in realtà che servono proprio per eliminare diciamo i giochi ed eliminare possibili risalite di gas oltre all'attrito. Per evitare il consumo delle fasce e dei cilindri si deve ovviamente utilizzare un olio lubrificante quindi l'olio del motore che attraverso una pompa viene schizzato su praticamente tutti i componenti in movimento del motore quindi una minore usura di tutti i componenti. L'olio ha anche una funzione di raffreddamento infatti se non gira l'olio oltre ad esserci attrito le parti si surriscalderanno danneggiandosi inevitabilmente. Vi ricordo che quando uno componente si riscalda questa si dilata e quindi può determinare tra le varie cose il grippaggio. Immaginate che il pistone non è più raffreddato si espande, si incastra nel cilindro e quindi in questo caso si parla di grippaggio del pistone. Pericolosissimo perché poi ovviamente bisogna cambiare sia il cilindro che il pistone e quindi con tutti i costi annessi a questa cosa qui. Ovviamente il raffreddamento è garantito anche dall'aria che fluisce attorno al motore e quest'aria passa attraverso delle piccole lamelle di cui il motore è composto raffreddandolo. Sono rari i motori raffreddati ad acqua come quelli delle autoveicoli nell'ambito aeronautico quindi è raro. So che la motax fa alcuni motori che sono raffreddati ad acqua però è una soluzione abbastanza difficile da trovare a livello aeronautico. Quindi normalmente è l'aria che raffredda il motore dalla parte esterna quindi lambisce il motore dall'esterno e sottrae parte del calore del motore stesso. Ovviamente ci sono delle condizioni in cui è comodo avere quest'aria che raffredda il motore ci sono delle condizioni in cui invece è deleterio. Ad esempio se noi stiamo salendo ci serve molta aria nel motore a pistoni perché appunto quando si sale si sale più piano rispetto al volo rettilineo oppure quello in discesa e quando si sale la potenza del motore è al massimo quindi abbiamo bisogno del massimo raffreddamento possibile. Quando invece si scende il motore è al minimo quindi già di per sé si raffredda e non solo quando scendiamo generalmente la velocità è levemente maggiore rispetto al volo rettilineo. Cosa si sono inventati su certi aerei? Sono sostanzialmente delle paratie comandabili dall'interno della cabina che consentono di non disperdere il calore durante la discesa perché il motore deve cercare di lavorare sempre in un regime di temperature definito quindi non può passare da 300 gradi a zero di colpo perché sennò avremo delle cricche nel metallo quindi il motore si distruggerebbe semplicemente. Quindi con l'uso attento di questi flabelli noi possiamo cercare di mantenere il motore caldo durante le discese e invece dargli tutta l'area di cui ha bisogno durante le salite. Rimane un componente importante di cui non abbiamo parlato che è essenziale perché senza questo componente il motore non funziona. Cioè chi garantisce il giusto apporto di carburante d'aria all'interno del motore questa funzione è assolta dal carburatore nei motori a carburatore e dall'iniezione nei motori appunto a iniezione. Come sono fatte queste due cose? Allora il carburatore generalmente si compone di un organo che si chiama valvola farfalla la quale valvola farfalla può aprire una luce in un condotto quindi tanto più questa luce è aperta tanta più aria fluisce e poi attraverso un condotto l'aria letteralmente trascina con sé il carburante e quindi crea la miscela giusta per poi alimentare il motore. Quindi il carburante è spruzzato all'interno di questo oggetto dell'aria e la valvola farfalla comanda quant'aria deve entrare all'interno del carburatore stesso e quindi anche quanta benzina deve essere tirata insieme all'aria per avere il regime di motore corretto. Quindi attraverso l'utilizzo dell'effetto Venturi noi abbiamo che più aria passa più suzione più aspirazione c'è e quindi più carburante viene assorbito dall'ugello spruzzatore. Questo è un meccanismo molto semplice il più semplice meccanismo che abbiamo per alimentare un motore a pistoni ovviamente poi all'uscita del carburatore troviamo il collettore di aspirazione che poi parla comunica direttamente con le valvole di aspirazione. Il sistema iniezione è composto da un dosatore di carburante che generalmente va a definire quanto carburante deve essere spruzzato direttamente all'interno dei cilindri attraverso gli iniettori quindi non c'è il carburatore ma abbiamo direttamente l'aspirazione dell'aria e poi l'iniezione di carburante dentro i cilindri. Questa è una soluzione più sofisticata anche un po' più complessa da realizzare e che si trova generalmente sui motori più recenti. Rimuove un sacco di problemi come ad esempio il ghiaccio al carburatore perché quando noi apriamo la farfalla ovviamente la depressione può essere tale nell'aria che c'è un calo netto di temperatura che può raggiungere anche i 20 gradi quindi se fuori ci sono 10 gradi tutta l'umidità presente nell'aria congelerà creando ghiaccio al carburatore poi di questo parleremo quindi non vi preoccupate parleremo anche di questo di questi problemi che affleggono le varie parti degli aeromobili. Bene questo era tutto quello che avevo da dirvi sui motori a pistoni nei prossimi video parleremo di miscela quindi parleremo un po' meglio di carburatori e di iniettori e poi parleremo di eliche quindi come poi la velocità di rotazione del motore viene trasmessa all'aria come l'aereo fa a procedere in avanti parleremo appunto di questo quando parleremo di eliche perché poi vedremo che le eliche sono un altro mezzo abbastanza simpatico e complesso per certi aspetti che vale la pena analizzare. Vi invito dunque a vedere questi video se sono già usciti oppure a pazientare qualche giorno il tempo di realizzarli. Come sempre se il video vi è piaciuto vi invito a mettere mi piace commentare se avete dei dubbi dei suggerimenti o delle domande e condividere questo video con i vostri amici ricordate anche di passare dai miei social trovate i link in descrizione. Come sempre vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a un prossimo video.